Sono molto contento, tutto questo sembra un sogno, ma la realtà è che siamo molto contenti, felici per questa sequenza di vittorie che speriamo prosegua. Adesso mi daranno il merito di tutto questo, ma in realtà penso di avere la fortuna di allenare una squadra fantastica, con dei giocatori fantastici, in una società fantastica. E questa è la sintesi di questo record, che prova un'ammirazione profonda per questi giocatori che stanno lavorando davvero bene. che stanno lavorando molto bene.